Si parla di coding da due anni in Abruzzo con il progetto di Rati, associazione della rete di abruzzesi per il talento e l'innovazione, con l'obiettivo di parlare della scuola che si trova a svolgere sempre più un ruolo di avanguardia e innovazione, sia nei contenuti, sia nei metodi di insegnamento e apprendimento. Il prossimo appuntamento è una conferenza che si terrà sabato pomeriggio a Torricella Pellinia, nella Mediateca dedicata a John Fante. Tra i relatori ci saranno il rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico, e Loris di Pietrantonio, un giovane socio di Rati che è stato recentemente nominato capo unità di Gilavoro della Commissione Europea, il presidente di Rati, Giovanni Di Fonzo. Noi di Rati promuoviamo la crescita di un rapporto stretto delle scuole con il territorio, con tutte le sue espressioni, a partire da quella istituzionale, ovvero i comuni, ma passando anche a tutto il resto, cioè alle aziende, a quello che è il mondo accademico, al mondo della cultura, alla società civile. L'appuntamento di Torricella servirà proprio a questo, ad avviare questa seconda fase che va verso la costruzione di vere e proprie coalizioni territoriali. Lo faremo con ospiti molto eccezionali, lo faremo con la presenza di numerose scuole, ma anche di tutto quello che associa l'Anci, perché stiamo creando anche le condizioni per un protocollo d'intesa, tale da non lasciare più Rati e le scuole, ma intanto mettere insieme Rati, le scuole e i comuni e da qui partire per fare il resto della coalizione. Grazie.